buonasera a tutti e benvenuti partiamo subito dalla fine quindi partiamo dagli auguri vi faccio i miei migliori auguri di un buon fine anno con l'auspicio di rivedervi tutti l'anno prossimo ancora me lo auguro davanti a questo schermo nel seguire quello che con la massima attenzione e cura e anche affetto e anche passione io ma anche tutta la redazione di telecolor la famiglia baronio i giornalisti claudio e tutti gli altri gli operatori e tutti coloro che comunque hanno contribuito a dare un senso e a dare anche visibilità a questo programma ecco dicevo l'auspicio è quello di rivedervi tutti l'anno prossimo per trascorrere ancora qualche minuto insieme è stata una trasmissione che ha cercato quella che è stata definita la rubrica il fatto dicevo ha cercato di dare mi auguro con semplicità o comunque con un minimo di attenzione di approfondimento di accertamento anche dei fatti tutta una serie di valutazioni e di notizie che hanno coronato un anno che sta ormai per finire notizie che purtroppo per fortuna forse ci ritroveremo ancora a narrare nell'anno 2016 ma che comunque ci hanno accompagnato ci hanno fatto riflettere ci hanno fatto discutere ci hanno fatto pensare e il fatto in questo caso ha cercato di aiutare senza alcuna pretesa e senza lanciare accuse e senza ancora cercare di diventare un punto di riferimento per qualcuno nei confronti di qualcun altro ma con la massima volte anche difficile imparzialità prendervi tutti per mano e ragionare di quella che è stato ad esempio il pontificato di quello che sarà il pontificato di papa francesco delle vicissitudini della sua chiesa abbiamo parlato del sinodo abbiamo parlato di vatilix abbiamo parlato di una serie di disagi di difficoltà per il papato e per l'opera pastorale di francesco nell'avvicinarsi a realtà difficili non ultimo il viaggio negli stati uniti piuttosto che nel centro america piuttosto che in paesi gravemente a rischio terrorismo e qui abbiamo ragionato dell'isis abbiamo cercato di dare a questo movimento di di terroristi una identità geografica politica socio economica e quindi anche di tracciarne un percorso e di cercarne insieme a tutti voi anche le cause ma soprattutto evitarne gli effetti quando parlo di effetti mi riferisco nell'anno 2015 alla francia siamo partiti con charlie ebdo strage abbiamo terminato con i fatti ultimi di parigi sempre morti teatro bataclan piazze ristoranti disagi paura per la sicurezza internazionale abbiamo valutato anche il comportamento delle grandi potenze gli stati uniti in notevole difficoltà di potere geopolitico la presidenza obama che si spegne come un lumicino con sempre più difficoltà e debolezza all'interno ma anche all'esterno nel far valere forse certi principi o nel contrastarne altri abbiamo parlato di una russia in forte crescita una russia tra virgolette zarista con il culto della personalità con la voglia di intervenire nelle politiche con la voglia di far vedere una presenza da tempo forse ancora dimenticata e misconosciuta sembrava quasi rottamata dopo la guerra fredda abbiamo ragionato e parlato di un'europa europa allo sbando europa che non riesce minimamente su sulle piccole quanto sulle grandi cose a trovare un accordo a ragionare insieme ad unirsi nella solidarietà sono sempre questioni economiche sono sempre questioni di disagio sono sempre ordini malfatti e buttati a tutti dovunque e comunque ordini che poi sono andati a contrastare con la sovranità delle altre nazioni e che hanno infastidito tutti coloro che pensavano di sentirsi parte di qualcosa ma che in realtà alla fin fine così hanno hanno visto cadere quelli che potevano essere principi universali nella speranza di un unico paese in grado di poter far fronte a tutte le difficoltà migranti nodo nodo indissolubile quello che nel 2015 ha contornato le spiagge le vie aeree le vie terrestri morti naufragi trattamenti ai limiti di quello che potrebbe essere un un livello umanitario nazioni che hanno gestito il problema perché poi è un problema alla fin fine questo è stato considerato questo è diventato bene male con discriminazioni con danni con sofferenze con grandissima confusione l'italia la lasciamo per ultima anche perché la politica del nostro stato si è forse compresa nel 2015 non si è compresa tanti proclami tanti tante promesse mantenute non mantenute non riusciamo ancora a capirlo siamo ancora sballottati fra il faremo vedremo raggiungeremo abbiamo fatto siamo diventati non lo siamo nessuno sa dirci realmente quale possa essere oggettivamente una situazione sappiamo però che i nostri guai li abbiamo maturati mafia capitale problematiche di 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 ladrocini di corruzione pensiamo pensiamo ai fatti di expo pensiamo a quanto avviene al nord al centro al sud sotto qualunque punto di vista e quindi con un sistema anche come quello italiano che dal punto di vista politico economico e sociale non parliamo nemmeno di quelle che sono le banche in questo momento e di quelli che sono i i macelli i disastri che i consumatori hanno subito tutto questo in ogni caso ce lo portiamo per la fine dell'anno speriamo di migliorarlo per quello a venire vi ringrazio sempre è stato un grande piacere ed un grande privilegio potervi parlare qualche volta grazie 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 grazie